Nel cuore del centro storico di Racale si può ammirare la matrice chiesa di Santa Maria de Paradiso eretta sulle spoglie della precedente struttura distrutta nel terribile terremoto del 1743. La chiesa venne ricostruita e ultimata nel 1756 da Mastro Domenico Saracino di Martano, e agli inizi del Novecento, l'aumento considerevole della popolazione e i problemi strutturali della chiesa stessa posero di nuovo l'esigenza di una sostanziale opera di ristrutturazione che durò dal 1908 al 1912. Dell'originario edificio si conservano ancora alcuni freggi della struttura e anche alcuni affreschi di stampo bizantino che impreziosiscono le pareti laterali. Importante dal punto di vista culturale e storico è la sagrestia, che può essere considerata un piccolo museo. Essa conserva monete romane, bizantine, veneziane, tutte rinvenute durante i lavori di restauro ed anche altri oggetti che per un istante permettono a chi li ammira di rivivere un antico passato.